Ciao ragazzi e bentornati con Final Fantasy 8 Scusate per l'interruzione improvvisa dell'ultima puntata E che gli ultimi 3 minuti li ho tagliati perchè mia sorella ha fatto scattare la corrente in casa E quindi si è persa la registrazione E ho trovato l'unico punto diciamo più sensato per chiudere la puntata quello che avete visto insomma Adesso riprendiamo un po' qui giusto per capire il mio discorso Stiamo ripassando il piano per Prendere super vip di Galbadia per appunto Per l'appunto Vincent Delling è il bravaggio presidente di Galbadia Ok Bene Polverizzarlo con lanciamissili no Dai Sentiamo Stupiano Prima di tutto vi spiego lo schema Base Quello giallo dove stiamo noi Il vagone base Questo è il vagone sosia Uguale a quello del presidente Che in realtà non è vero Cazzo è blu Il presidente è rosso Vabbè Sull'altro binario c'è la locomotiva Il vagone scorta Nel vagone rosso c'è il presidente Si chiama vagone presidente L'ultimo è il vagone scorta 2 Da qui comincerà l'operazione L'obiettivo finale dell'operazione è Costituire il vagone sosia con il vagone presidente Salteremo dal vagone base su quello del presidente Per poi rapirlo Ok Vediamo un po' Raggiungere scorta 2 E saltarci su Ok Salteremo dal tetto del vagone sosia Al vagone scorta 2 Procedere con cautela su scorta 2 Scorta 2 è dotato di sensori Contrata da soldati Va bene Vi spiegherò più tardi come evitare i sensori Passare sul vagone presidente Si può passare senza problemi sul vagone del presidente Delling odia i sensori O essere cercato da guardia Perciò nessun problema Quarto Punto Primo sganciamento Vagone scorta 1 Se non sganciamo il vangone Prima del primo punto di scambio del treno Kablam Ah bene dai Bene Ok Perfetto Sì Ok Perfetto Chi si preparerà per affrontare il presidente Ok 5 minuti di tempo Bene Si spera Ok Va bene Stop con guardia blu Sensore sonoro Azione con guardia rossa Ok Va bene Va bene Quattro cifre Ok Bene Bene Ma no cazzo Quattro uno Ma va a cagare Quattro Quattro uno due Ecco Quattro 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 Uno Due Ok Tre due quattro tre Tre Due Quattro Tre E vai Tre Uno 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 Tre Niente male Niente male Ah Ma che cazzate stanno dicendo vediamo Quello del presidente dipinto male A me piace Cavolo Dei fori di testa Ah ecco perché L'odio Puntino esclamativo Uno Puntino esclamativo Ok Quindi Si Guardia blu Stop Guardia rossa Movimento Questo qua è la cacarella Letteralmente Letteralmente Quindi non so quanto di aiuto possa essere Ok Ok Niente questo qua è disutile Disutile fino al midollo Vabbè Non ancora Facciamo salvataggio veloce Visto che Ci siamo Ok Eh questo qua è il fantoccio Si Figata Siete stati bravissimi Effettivamente Sembra vero Cavolo Qui c'è Angelo Che fa la guardia Poi la Il cane numero due Questa cosa Non me la ricordavo Onestamente Vediamo un po' Ah ma non abbiamo ancora Ah no Eccola qua Junction No Abilità Mmm Beh Dopo vedremo Dai Mmm Mmm Ma il cane numero due Ah eccolo qua XX in soccorso Eh ma una volta che li leggo Scusate Non dovrebbe mettersi Mmm Vediamo un attimo Ah eccoli qua Eh infatti mi pareva Saranno cazzarola Allora mettiamo questo Allora mettiamo questo Angelo Bene Proseguiamo Siamo pronti What Yes Yes Vai Allora Guardie blu Guardie blu Stop Guardie rosso Mavi me Ok Vai Salta Salta Bravissimo Dai Chiudi quella finestra Perfetto Credo Dai Non c'è tempo da perdere Oh ilala Tutto regolare Signore Ancora tu E sono 27 volte Bastarono come presidente Esatto Non che bastino stipendi Per sposarsi Eh comunque va bene diventale No Non Vi 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 Sì 2-1-1-2 Ok 3-3-3-2 Ok 3-3-2-1 Bene Vai su Benissimo Oh ilà Che figata Mamma mia Se me la ricordo Altro che Mission Impossible Che bella che era la CGI Guarda è una cosa di fantastico A quel tempo Mamma mia Quanti ricordi Ho i brividi Ho i brividi A quel tempo Era una cosa di fantastico E qua possiamo muovere scuole Non so se avete notato Eh già Manichino E vabbè A sto punto lavora gratis Che è meglio Anche Ehm Ehm 5 codici Cazzo ma sono tantissime Sì Dai va 2, 3, 3, 4 Dai 2, 1, 3, 3 Ok No Porca vacca Cazzo ho sbagliato Mi sono deconcentrato Scusate ragazzi Vabbè Sì Dai 3, 2, 1, 2 Dai Possiamo mettere 1, 3, 2, 3 Su Su Vai Su Andate via Dai Porta 4, 3, 3, 3 Ok No no dai un'altra volta 4, 3, 3, 4 Ok Dai un altro 3, 2, 2, 2 Vai su Vai su Mamma mia per un pelo Cazzarola Vai Tom Pulse C'è Fana Pippa C'è Fana Pippa Tom Pulse Con il treno dei riders Eh Ma Il vagone dei riders Ecco di qua Inchiappettato Il presidente Il piano è riuscito Da perfezione Direi E noi ce ne andiamo Con i due vagoni Eh sì Niente Tom si caga Adosso Letteralmente Ciao Zao Ti è stato Molto utile Negoziare Meglio controllare Guardian Force Eh vabbè Allora Io direi che Usiamo Ziles Poi le selfie Per cui Va bene così E E Bene Ok Ok Bene Sì Va bene Siren Bene Direi che ci siamo Pronti Nati pronti Ragazzi Non proprio In realtà Presidente Delling Non opponga resistenza Gliela farò pagare Cara Se oppongo resistenza Cosa mi fa Signorina Cosa Che peccato Sono una specie Una specie di bersaglio Umano What Ok Che cazzo Che cazzo Che cazzo è Allora Questo qua Ai 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 Eh qua me lo ricordo Un po' Ragazzi Io un po' Me lo ricordo Siete proprio divertenti Siete solo dei mocciosi E osate affrontare Grande Delling Oh ilala Mamma mia Che impressione Sembra tipo Uno zombie Siete caduti In trappola Au Nunchaku Gunblade Buono Aglio E adesso qua Si va di GF Presidente Lei mi ha rotto Le balle Dai Vediamo un po' Che succede Così Ancora Vai Ifrid Fagli il culo Non cegli le chiappe Il frida è uno spettacolo Mamma mia Che bello Tracciato 60 Non tantissimo Divertente Divertente Aspetta Vedrai Che belline Senti La siren Ancora di più Poi la Vediamo quanto male gli fa 304 Insomma Però sembra Quasi morto Ok Ok Ah Cazzo Ecco la sua Vera natura Porca vacca Miseriaccia Che brutto Che è Mamma mia Proprio Shiva Shiva gli fa Molto male A quanto pare Bene Proviamo questa Al suo giro Oh Infame Double magia Berserk magia Vediamo cosa c'è qua Zombie magia Uso subito Esna Su selfie Dato che ha blind Esna praticamente È quella magia Che cura Tutti gli status Alterati In teoria Se non è tornato male Blind è lo stato Che Che acceca E quindi fa Diminuire di molto La probabilità Di mettere A segno Colpi Visiti Vediamo Se è meglio Questa Lo riprido Questa Ti sei curata Ah sì Infatti vedete Che non è più Oscurata Diciamo Vai con Shiva Vai Squall 59 Solo 20 20 20 Ah beh Au E pure blind E anche lo stato lento Bene Infame Proviamo Ifrid Sul stato nuovo Perché magari Adesso che non è più In forma umana Da virgolette Ifrid Mi fa più male Bene Vediamo se qualcuno di questi qua Ha scan Come magia Eccolo qua Vediamo ragazzi Questa è una volta Quello facciamo nel gioco Scan 1022 1022 Ieri è rimasto di vita Praticamente è morto Dai Sensibile contro il ghiaccio Bene Quindi Zell Adesso tocca a te Che è Shiva Dai Adesso Tra Selfie Ifrid E Un'eventuale Shiva Questo qua Muore Aio Molto male Selfie Tira Foro un gf Basta Perfetto Ops Ah no Mutismo Vabbè Dai Eh no Cazzo Mutismo Mi impedisce Di fare i cosi I gf Cazzarola Mutismo È quello stato Che praticamente Mi impedisce Usare le magie E anche i gf Cavolo Super Schiacciata E adesso Dove avere Più o meno Un 300 di vita Credo Anzi no È morto Credo Eh già Perché gli ha tirato via 800 Che è tantissimo E vai Ma perché Bene Benissimo Accidenti Il presidente Era solo un sosia Ciao Estazione TV Estazione TV Cosa sta succedendo Lì Tutti per uno Uno per tutti Ma cosa stai dicendo Fai la serie Ogni tanto Infatti 17 anni Aspettate un attimo Dai dai I gufi Gufano adesso Scherzo Un po' Dei pagliaccetti Eh Questo Quello abbiamo Già letto C'è finta di niente Dai Tira fuori il contratto Vediamo se è vero O se è falsificato Ok Non ho capito Ma non è complicato Ecco Stai dicendo Ah Seed è molto gentile Chi dice stavolta Ai gufi del bosco Il contratto della vostra missione con i seed Scadrà all'indipendenza di timber Mi prego di collaborare con i seed Al fine di conseguire l'obiettivo desiderato Si rende noto che Essendo un contratto particolare Nel caso venissero a mancare i membri seed Non potranno essere sostituiti E presente le garden di Balamb Seed Kramer Insomma è un contratto ben lungo ecco Dai Vabbè Vazzo ho capito What Scusate Zono ho capito che andrei in bagno Farsela sotto letteralmente E gli altri Vabbè Allora Rinoa Non si può togliere in nessun modo Spall Neanche ovviamente Scegliamo Questi se non c'è O selfie O zel Zel Che mi piace un sacco Bene Cambio junction Certo Mettiamo selfie Con Rinoa Ok Allora tu che fai? Un cacchio selfie Stai qua e tieni compagnia a Watts No A Zone Mentre vai in bagno Ecco appunto Salviamo Visto che abbiamo battuto il Boss Tra virgolette Tadam Equipaggiamo le magie nuove Ragazzuoli Allora Tutte e due Wow Forza più 20 Magia più 20 Cavolo Qua niente Spirito più 20 Va bene Poi guardiamo un attimo le abilità qua che stanno imparando questi Magia invocata più 20% GF più 10% Supporto Magia più 40 Questo è buono Cassarola Poi Spirito Va bene Ok dai Eleborazione magia Gelo Anche questo Cavolo Sarebbe buono Magia invocata più 10 Eleborazione magia Di poco Forza più 40 Sì Eleborazione magia vitali Assolutamente sì Ok We are ready Vediamo un po' qua se c'è qualche altro Il rivista del cane per esempio No Ciao bello Stammi bene Tan 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 Prontissimo Bye Un nuovo arrivato che raccoglie informazioni Cercavo notizie a proposito dell'avviso del presidente Era un tipo educato Un po' strano per essere uno di qui Dava tutti del signore Ho capito di chi parli Era insieme a tre tipi sospetti Che venivano da Balamb Faccio controllare tutti i ragazzi sospetti della zona Ma non si può ispezionare così A cazzo dei cane Allora La carrozza è arrivata Ok Le lacrime di gufo Ma cosa fai Watt? Cosa fai? Corri dietro al treno a piedi Ma sei fuori di testa Ma perché? Ciao cane Il cane numero 3 Il cane numero 4 Compra dai Ok 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 Va bene Va bene Ok Allora Andiamo a Da nessuna parte Nemici Soldati galbadiani Ah ma blind non è andato via Poi caccia la pupazza Wow Un attacco critico Che fudo 62 Però mica poco Scuola blind Quindi figuriamoci se lo prende Ah Ha avuto fudo dai Però il gun blade non ha funzionato Bene Ottimo Adesso uno di loro 3 Dovrebbe già aver preso Elaborazione e magie vitali Siren Eccolo qua Eccolo qua Allora Bene CF Siren Le diamo Medicina e ripristino status Un'abilità Scopre save point E fonti energetiche Abilità 2 junction E' una difesa status Anche sto qua cavolo è buono Anche rivela zone E' buono E' tutto buono cavolo Stai Vediamo cosa c'è di qua ragazzi Che non mi ricordo Timber Maniacs Allora andiamo a prendere la rivista Che in teoria dovrebbe essere qui dentro Il Timber Maniacs per l'appunto La mia vicina E che vabbè Vediamo Contiene foto erotiche What? Ah che strano Vabbè Blizzaga Wow Sapete cos'è Blizzaga? E' la magia più potente di ghiaccio O la paga da seed Bene grazie Blizzaga è proprio la magia più potente di ghiaccio C'è blizzard, blizzara e blizzaga Poi c'è fire, firara, firaga E via così Trovate una rivista di Timber Maniacs Bene Possiamo andare avanti ragazzi Adesso ci racconta la storia della sua vita Infatti 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 Ehi school porta rispetto al pivellino Ehi va a cagare va Sì Sembra No Facete di parlare Cavolo vediamo vediamo l'ultima cosa dai l'ultima opzione di dialogo giusto per capire se si racconta qualcosa di bello ci stava meglio quando si stava peggio e ma scuola sei proprio irascibile non ti va bene niente ancora ok arrivederci e ride e ride vabbè vediamo cosa c'è qui ah che bello un uomo con cui poter litigare tutto il giorno è proprio una bella ambizione bravo Zell sono d'accordo con te è un po' strana come idea e questi ok bene dal pub ragazzi dal pub cosa se vuoi te a coltello comunque è buffo come noi come tizzi calunque possiamo entrare in caso degli altri così senza particolari motivi mille ghi fuori di teste visto panoramica gratis dai io vorrei darteli vorrei darteli dici ghi però vabbè non posso il pub è qui giù eh no volevo parlare con la tipa io vabbè ok non importa vediamo cosa c'è qua nemici dai ancora blind ma non si cura mica no da solo dopo un po' vedete con blind non fa il gunblade eh anche se lo premo giusto non lo fa ecco appunto ecco appunto ah vabbè allora perfetto perfetto dove sto andando dove sto andando no non mi interessa sapere dove vanno i treni onestamente e che cazzo un mostro ogni un minuto e mezzo ma neanche vabbè però è strano come non manchi mai il bersaglio nonostante è blind ma vorrei che facendo il gunblade praticamente il colpo che andrebbe a vuoto invece lo prende bah non lo so puoi darsi un esempio di vediamo cosa c'è di qua niente allora mi viene da pensare che qui c'era una fonte di magia che però va rilevata rivelata scusate con le abilità che avete visto prima di Siren ma non sono sicuro in realtà voglio derubarvi ok posso derubarvi posso derubarvi eh vediamoglielo sto colpo vediamo cosa c'è dentro cerco meglio il mistero della credenza oila ma no ma gliel'abbiamo presi cazzo ma dai ma stai scherzando ma non si fa così vediamo che ci potevamo bere l'acqua non mi pare però parliamo con il eh esatto effettivamente vi vergogno sì cavolo però mi è andato così ragazzi per cui eh andiamo andiamo al pub va pareva strano vabbè dai per spuola battiamo e non batte il baleno non batti il baleno volevo dire au stecchito comunque dobbiamo guarirlo spuola dai allora usa no no eh spuola e anche su selfie dai e poi energia selfie tell è scoperto adesso va bene dai oila combattimento combattimento forzato sto giro non è un problema per me vediamo il gunblade e tutta la sua gloria adesso oila perfetto dice sport gunblade 160 incredibile one shot one dead carta 2 vabbè energia vediamo ash wall treno per il deserto colpi di piombo colpi normali non vi posso dire qua vi dico solo abbiate fede e non vi posso dire qua mi Grazie a tutti. No, e vediamo. Buono cavolo. Figata, non me ne ricadavo sta roba qua. Questo qua mi sa che è Rinoa che ha preso l'abilità. Infatti, ecco qua, gli diamo il furore di Angelo adesso. Tom Barri. Wow. E adesso possiamo passare, ragazzi. E vai. Ciao. 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 Bene, ragazzi. E per oggi direi che è andata. Spero vi sia piaciuto. Grazie e alla prossima.